C'è il turismo di ritorno, il turismo delle radici, quello emozione di tornare al posto dove sono nati i nonni, i bisnonni, anche i padri. È un viaggio che noi chiamiamo esperienziale, un'esperienza emozionante che consente di riscoprire tutto il patrimonio culturale, enogastronomico, naturalistico, genealogico dei propri avi e che noi speriamo sempre più possa attrarre tanti italiani e tanti italodiscendenti che sono all'estero e che non hanno mai avuto l'opportunità di tornare a casa loro, alle loro origini. Ci saranno vantaggi per quelli che vogliono venire a trovare il posto dove sono nati? Proprio oggi abbiamo presentato Italia Card, è la carta, il passaporto delle radici che consentirà tutta una serie di agevolazioni, di situazioni più facili, anche di sconti per viaggiare, per risiedere, per muoversi in Italia. Quindi ci saranno dei vantaggi registrandosi in questo nostro nuovo portale che si chiama Italia. Un viaggio sul patrimonio culturale e la storia di ognuno immigrato all'estero? Sì, un viaggio che ciascuno potrà costruire a seconda della regione che gli interessa, della regione da cui venivano i propri progenitori e anche a seconda dei propri interessi. Chi è più appassionato per esempio di cammini, cammini anche in luoghi storici, chi è più appassionato di gastronomia, di vino oppure chi è più appassionato per esempio di luoghi della cultura, di chiese, di castelli. Ognuno potrà costruire il proprio viaggio sempre avendo in mente però la riscoperta dei propri antenati, la riscoperta delle proprie origini. Grazie. Prego, grazie a voi e benvenuti in Italia. Grazie. Grazie.